Salve a tutti amici del biliardo, eccoci qua, questa è la location dove stasera inizieranno i guerrieri del biliardo, questa gara che è stata organizzata da Francesco Rubai, adesso andiamo brevemente a sentire quelle che sono le impressioni, le speranze del gestore, ecco qui del Maxime Marco Graziano. Ciao a tutti guerrieri, da questa sera fino a domenica va in scena l'edizione estiva dei guerrieri del biliardo, quindi mi raccomando le batterie sono tutte piene, vedremo chi sarà il prossimo andare in foto dopo Roli e Andreotti che hanno vinto le precedenti edizioni, quindi vi aspettiamo al Maxime da questa sera a domenica, ciao a tutti guerrieri. Grazie Marco Graziano, adesso finiamo con questo collage di fotografie per ricordare i nostri amici delle due gare precedenti che sono svolte in questa, ripeto, questa magnifica location. Ecco qua Roli Maurizio, premiato da Francesco Rubai, altri amici che saranno presenti stasera a questa splendida, splendida, dico io, manifestazione. Un ciao a tutti, a presto.